Ecco, sono sempre qui che sto attraversando questa strada in mezza campagna quando queste persone hanno appena gettato l'immondizia. Questi sono i massoni che vengono contattati dalla polizia, in particolare l'amministrazione comunale, per gettarmi in rusco il mio passaggio. Mi sono con la bici e mi sono dovuta fermare, vedete? Ed è un continuo. Ecco, la vedete? Questa massona qua è già la seconda volta che tutte le volte che io vado a trovare mia mamma mi fa passare. Quindi vedete la circostanzialità con cui mi molestano, cioè cercano sempre di fare le cose con una certa casualità. Adesso, vedete quelle persone là che mi vengono incontro passeggiando amabilmente, come se, insomma, fosse una cosa normale. Ecco, perché uno dice, beh, beh, sono due che passeggiano. Allora, non stanno facendo niente, però negli ultimi tempi, tra le tante molestie, quelli che mi buttano in rusco, quelli che mi fumano addosso, quelli che mi attraversano la strada col cane in rusco, avete visto, attraverso la strada, ci sono queste continue persone che si interpongono a me, occludendomi di spassi. Quindi questa coppia che mi pare una persona che semplicemente stanno facendo una passeggiata non è un caso, anche se vogliono che intorno, a chi butta l'occhio lo veda come tale, in verità è rivolta a me. Adesso non li ingrandisco troppo perché se no mi possono accusare di qualcosa, però ecco, adesso aspetto anche perché la tipa è appena agitato l'immondizia e mi fa un po' schifo passare di là, però vedete insieme a questo fatto contemporaneamente il dispiego di altre persone a occludermi di spassi.